Ehi, guardateci! Ehi, io! Stiamo giocando in un concreto nuovo! Io lo sto dicendo! E siamo stragonfi! Ehi, dai che... Nooo! Non cadrarete! Ciao mamma! Guarda come mi diverto! Vai! Sono male con! Quanto siamo? Aspetta! Basta un attimino! Eh! Non lo so, ti tiro! Però sto dicendo! Vito ancora, appunto mio! Perché sono comunque! Vabbè che le scarpe! Ah, non vai! Nooo! Nooo! Ah, che era nella schiena! Oh, te stai prendendo in faccia con la paletta! Cosa? Se mi prende in faccia con la paletta! Ok, ma non mi fai il collo! Alzamela! Oh, io alzamela! Ah! Alzamela! Sei in una rete, devi sapere! Madonna, che bello! Ripallo, ora! Ripallo, ora! Ripallo, ora! Ripallo, ora! Ripallo, ora! Guardate che è il tuo schiena, è più salto! Io non lo so! No! Oh! Ho mancato! Mangi su best! Ce l'ha da montare! Oh! 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 Vai, chi sei davvero di cose statiche! Ah! Tocchiappa! Ehm! 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 Questo è il finestre! Perché ! Aprite porte e il finestre! Ah! Pèsato, stanno! Estatappenso!